Vandali in azione la scorsa notte nel parcheggio riservato ai dipendenti dell'ospedale di Cattinara. Alcuni lavoratori che smontavano il turno di notte hanno trovato le proprie auto pesantemente danneggiate in tre casi addirittura devastate. I gnoti hanno spaccato i parabrezze, i finestrini e i fari, bucato gli pneumatici e rubato le targhe. A confermare il grave episodio è l'azienda sanitaria che in una nota parla di danni ingenti ed esprime vicinanze ai professionisti colpiti. Asugi fa sapere di aver prontamente attivato tutte le procedure assicurative del caso e di voler potenziare il sistema di videosorveglianza. A denunciare l'accaduto era stato stamani Giorgio Iurkic della CISL Funzione Pubblica. Siamo stati avvisati dai colleghi che hanno smontato notte, che hanno trovato queste macchine danneggiate e fortemente danneggiate con anche il furto delle taghe, delle automobili e questo noi riteniamo un atto intimidatorio nei confronti del personale sanitario perché se non uno può essere tranquillo quando fa la notte e lasciare in un parcheggio che in teoria dovrebbe essere chiuso ma causa ai lavori e altre cose e così da una parte non completamente ci lascia il quanto perplessi e arrabbiati. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire responsabili di quanto accaduto.